Volevo salutare tutti, volevo ringraziare Mattia Spanghero, Crypto Hub e Crypto360 perché sono sempre ceneri, puntuali, precisi, dinamici nel mercato delle criptovalute e ringraziarli particolarmente perché io ho colto quelle che sono state le opportunità segnalate da Mattia Spanghero per quello che per esempio riguarda Nexo e non posso essere che serenamente felice e contento di poter aver colto queste opportunità sono molto soddisfatto del lavoro che stanno compiendo i ragazzi di Crypto Hub, Crypto360 e nello specifico anche nel management di Mattia Spanghero mi chiamo Matteo Belotti e sono fondatore di un gruppo di crescita finanziaria collaboro con i ragazzi di Crypto Hub e Crypto360 e sono molto felice di potervi ringraziare perché abbiamo avuto dei risultati extraordinari siete delle persone veramente in gamba io saluto tutto il gruppo di Crypto Hub e grazie ancora, ciao!